Il mio nome è Valentina, sono in una classe, la mia insegnante è Sinead, ci sono molti spagnoli e un'italiana che sarebbe mia sorella. Mi piacciono molto le attività, soprattutto la scalata che abbiamo fatto a Dingle. Poi la mia famiglia è molto dolce con me, sono davvero tutti molto gentili e disponibili, soprattutto le ragazze che ogni giorno gioco con loro e con la mia compagna a distanza Carmen. Chilarni è un bel posto perché ci sono molti posti dove fare shopping anche e mi piace soprattutto il National Park di Chilarni.